...1.5959 mi chiamo Giacomo, mi chiamo Giacomo io chiedi a Gionda, mi cura città del nome Asperico Alfa, Dima, Fionda e duende 59 tutti la nuova verità è un'esozione ma è un'eserazione ma è un'eserazione che non sta a spentiare Santa Maria che fa c'è l'era Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.